Ben trovati all'ascolto del nostro telegiornale. In apertura parliamo di Siracusa e dei cambiamenti che si stanno notando perché la cittadinanza risponde all'appello di stare a casa. Nella notte è stata eseguita la disinfestazione di alcune vie e anche una volante gira per raccomandare ai cittadini di stare a casa e tanti altri cambiamenti al primo giorno delle limitazioni alla circolazione. Vediamo quindi nel servizio come si presenta la città di Siracusa dopo il decreto. Primo giorno da zona rossa. Vediamo quali effetti ha provocato il provvedimento necessario per contenere il contagio da coronavirus. I siracusani si sono adeguati rispondendo all'appello di starsene a casa il più possibile. Strade vuote quasi ovunque, stare cinesche di negozi abbassate, pochissime auto lungo le strade principali della città. Insomma un ambiente davvero surreale per una città che vive ogni giorno con numerose persone, automobili, autobus e quant'altro. Immagini a The After come potete vedere quelle girate questa mattina in via Columba. Poco oltre gli agenti di polizia provinciale hanno effettuato un controllo su strada in contrada Fusco all'ingresso della città per verificare la provenienza dei mezzi e l'attinenza dello spostamento alle prescrizioni impartite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Possiamo raccontare di un mezzogiorno di fuoco ma in realtà così non è perché come vedete da queste immagini Piazza Duomo è completamente sconsolatamente vuota. In realtà avrebbe dovuto essere piena di turisti così come ci ha abituato in questo periodo di marzo e anche con la bella giornata. Invece niente, non c'è davvero nessuno se non qualcuno che passa con il motorino, un furgone che lascia i generi alimentari, immaginiamo qualcuno che vorrebbe aprire. Ma sono chiusi soprattutto i bar, c'è il bar storico che ha messo un insegno fuori che rimane chiuso proprio a causa del coronavirus fino al 26 di marzo. La chiesa è aperta ma assolutamente vuota, anche l'ipogeo è chiuso con il cancello, quindi è veramente serrato. Altrove vediamo niente, assolutamente il nulla perché come vedete la chiesa cattedrale, questa mattina abbiamo parlato proprio con il custode, soltanto sei persone sono entrate all'interno della chiesa. Ma ci siamo anche accorti che in Piazza Minerva non c'è davvero nessuno, il che significa che è stato recepito il messaggio lanciato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o meglio di starsene a casa perché il problema tocca davvero tutti e quindi per evitare problemi di contagio o altro è meglio starsene davvero a casa. Intanto la scorsa notte è stato fatto un intervento di pulizia straordinario in tutta la città. Da Cassibile al centro storico gli addetti alla pulizia hanno cosparso le strade disinfettanti. Intanto per un maggiore scrupolo la protezione civile sta girando con un mezzo fuoristrata che con un altoparlante annuncia e invita la gente a rimanere a casa. Emergenza coronavirus, in utemperanza a quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è richiesto a tutti i cittadini di restare a casa. Ancora un nuovo appello da parte del Sindaco Francesco Italia alla cittadinanza. Invita ancora una volta ad osservare il decreto appunto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Vediamo. Buongiorno a tutti cari concittadini. Ci troviamo di fronte a un momento particolarmente complesso della vita, della storia della nostra Repubblica e quindi anche della nostra città. Come sapete da ieri tutta l'Italia è diventata una zona controllata e ciò significa che il governo con un decreto che ha denominato «Io resto a casa» ha chiesto a ciascuno di noi di fare il massimo sforzo possibile per fermare il contagio di questo virus, il coronavirus, che sta purtroppo facendo tante vittime nel mondo ma che sta facendo tantissime vittime nella parte settentrionale del nostro Paese. Cosa possiamo fare per evitare che questo virus arrivi e si diffonda anche da noi? Dobbiamo non fare altro che rimanere a casa. Il governo ci chiede, ed io ve lo chiedo con tutta la forza e l'affetto possibile, dobbiamo rimanere a casa e limitare gli spostamenti solo, così come ci chiede il governo, alle situazioni di necessità e urgenza. Oppure ci possiamo spostare per andare a lavorare, oppure ci possiamo spostare perché è necessario sotto il profilo dell'approvvigionamento, dobbiamo pur mangiare. Quindi sì, possiamo andare chiaramente al supermercato, ma al supermercato non ci si va tutti insieme in famiglia, ma ci va una persona alla volta senza creare code, assembramenti e senza accalcarci. È chiaro che il decreto contiene tutta una serie di indicazioni perché ci dice cosa può rimanere aperto e cosa può rimanere chiuso, ma è chiaro, e questo spero che tutti noi riusciamo a capirlo con il nostro personale senso di responsabilità, che meno usciamo meglio è. Stiamo a casa il più possibile, facciamo questo sacrificio cambiando le nostre abitudini per i giorni che saranno necessari, nella consapevolezza che rinunciare a un pezzo della nostra vita quotidiana servirà a salvare la vita di qualcun altro, soprattutto delle persone che ci sono più care, dei nostri genitori, dei nostri nonni, degli anziani, delle persone che sono più fragili. Anche i bambini però sono fragili perché cerchiamo di evitare che anche i nostri bambini vivano questo momento come un trauma. Cerchiamo chiaramente nei loro confronti, laddove è possibile, di sdrammatizzare. Cogliamo quest'occasione per vivere dei momenti nelle nostre famiglie, vedremo di più la televisione, troviamo l'occasione di leggere dei libri. Sappiate che l'amministrazione e tutte le istituzioni nazionali, regionali, il nostro prefetto, le forze dell'ordine, sono accanto a ciascuno di voi e tutti noi stiamo facendo del nostro meglio per fronteggiare questo momento nel miglior modo possibile. C'è la possibilità di ricevere la spesa a casa, c'è la possibilità per gli anziani di ricevere i medicinali a casa, noi siamo accanto a voi costantemente, teneteci in considerazione per ogni vostra necessità, ma stando a casa. Stiamo a casa il più possibile perché rispettare le regole ed essere altruisti è il miglior antidoto contro questo contagio. Grazie a tutti. E in tempi di emergenza di coronavirus, quindi dell'obbligo di stare a casa, Monsignor Salvatore Pappalardo interviene sostenendo che è un'occasione per riscoprire i legami familiari. Sentiamo. Guai a noi se ci abbandonassimo alla disperazione. Questo è il momento della rinnovata fiducia verso il Signore, Padre misericordioso e verso chi si sta spendendo generosamente per prevenire e alleviare i gravi disagi che il fenomeno sta provocando. Questo è pure il momento di riscoprire i legami familiari, di ritornare a prendersi cura gli uni degli altri, di spenderci per le persone più fragili e malate, di scoprire quelle povertà che ci sono più vicine. L'Arcivescovo di Siracusa, Salvatore Pappalardo, scrive alla sua comunità, al popolo di Dio, ai siracusani, tutti parole dettate dalla difficile situazione che il Paese sta vivendo con l'emergenza coronavirus che ha costretto a un cambio netto di abitudini e comportamenti. Carissimi fratelli e sorelle, stiamo vivendo giorni segnati da preoccupazioni a motivo delle notizie che quotidianamente ci raggiungono circa l'epidemia del coronavirus. Le restrizioni alle nostre ordinarie attività imposte dal dovere di salvaguardare la salute di tutti ci impediscono anche di riunirci in assemblea per pregare e celebrare l'Eucharistia. Tale inedita situazione, come si legge in una nota odierna della Conferenza Episcopale Italiana, deve poter incontrare una risposta non rassegnata né disarmante. La Chiesa tutta sente una responsabilità enorme di prossimità al Paese. La Divina Provvidenza ci sprona oggi a vivere e a impegnarci sempre più in questa prossimità. Guai a noi se ci abbandonassimo alla disperazione. Questo è invece il momento della rinnovata fiducia verso il Signore, Padre misericordioso, ma l'Arcivesco ricorda proprio che in questi momenti il cristiano deve trovare la forza di distinguersi. Cristo, sotto le sembianze del buon samaritano, continua attraverso la Chiesa e i tanti sanitari e volontari a piegarsi sui fratelli sofferenti nel corpo e nello spirito per aiutarli a guarire e rialzarsi. Questo è pure il momento di riscoprire i legami familiari, di ritornare a prenderci cura degli uni e degli altri. Mentre i sacerdoti pregano la liturgia delle ore e celebrano la Messa, non con il popolo ma per il popolo, come già nel loro mistero e i nostri monasteri e le comunità religiose intensificano la loro preghiera di intercessione e ciascuno di noi non trascuri di nutrirsi della parola di Dio e di curare la preghiera personale. Monsignor Pappalardo ha lanciato un invito. Vi propongo di unirci spiritualmente ogni giorno alle ore 19 nella preghiera del Rosario. Insieme ci rivolgeremo alla cara Madonna delle Lacrime che con la nostra patrona Santa Lucia presenterà la nostra preghiera al Padre chiedendoli di liberare il mondo da ogni male. Per fare fronte all'emergenza coronavirus, la Speotto ha inviato una relazione all'assessore regionale alla salute per interventi urgenti in tre ospedali della provincia. Sentiamo il servizio. L'azienda sanitaria provinciale ha chiesto al governo regionale la somma di 3 milioni e 200 mila euro per interventi urgenti finalizzati a un pronto ampliamento dell'attività di rianimazione e malattie infettive oltre ad opere necessarie per fronteggiare l'emergenza covid-19. La richiesta riguarda sostanzialmente tre strutture ospedaliere del territorio siracusano. L'importo è contenuto nella missiva che il direttore generale dell'ASP Salvatore Lucio Ficarra ha inviato all'assessore regionale alla salute Girola Morrazza. Il prospetto economico fa parte di una specifica relazione sottoscritta anche dal direttore sanitario Anselmo Madeddo, dal direttore tecnico Pettignano, dall'UOC provveditorato Danila Rosa e dal direttore amministrativo Salvatore Iacolino. Si tratta della relazione sullo Stato e sulle esigenze strutturali impiantistiche e delle attrezzature dei servizi di rianimazione, terapia intensiva e malattie infettive dell'azienda sanitaria provinciale. Scaturisce dall'incontro avuto nei giorni scorsi a Palermo nel corso del quale l'assessore Razza ha sollecitato i dirigenti dell'ASP 8 di inviare un quadro della situazione e le richieste di intervento finanziario rispetto alle strutture ospedaliere operanti sul territorio. Nella relazione si fa riferimento innanzitutto all'ospedale Umberto I di Siracusa che attualmente presenta nella rete ospedaliera regionale 18 posti letto nel reparto di malattie infettive di cui 16 attivi e 2 per isolamento. Nella relazione si legge testualmente che le stanze sono prive di bagni in camera, impianto di trattamento aria ed esclusione delle stanze isolate, impianto di gas medicinali. In ogni stanza vi sono 3-4 posti letto. L'ASP ha quindi evidenziato la necessità di una ristrutturazione e di un adeguamento completo. Per questi interventi esiste già uno studio di fattibilità che prevede la spesa di un milione e mezzo di euro. Nell'elenco inviato all'assessore Razza figura il reparto di rianimazione dove i posti letto sono 8, come riportato nella rete ospedaliera regionale, di cui 7 sono attivi mentre uno è attivabile in aggiunta, dotato di un ventilatore polmonare il cui costo stimato è di 40.000 euro. Il reparto è stato ristrutturato 20 anni addietro ma necessita dell'ammodernamento delle apparecchiature elettromedicali. In particolare servono 8 ventilatori polmonari perché quelli utilizzati sarebbero di vecchia concezione e richiedono una costosa manutenzione. Il costo per il loro acquisto è di 320.000 euro. A proposito degli interventi ritenuti urgenti al presidio ospedaliero Umberto I per fronteggiare al meglio l'emergenza coronavirus, emergono la modifica dell'ascensore della Palazzina Nord, sede del reparto di malattie infettive di pediatria. Per trasformarlo anche in porta lettiche per un costo previsto di 100.000 euro. Un altro ascensore per garantire percorsi funzionali costo 200.000 euro. L'importo complessivo richiesto per l'Umberto I quindi è di 2.310.000 euro. Nella relazione si fa poi riferimento al presidio ospedaliero di Maria di Avola. Per quanto riguarda il reparto di rianimazione, nella nuova rete ospedaliera sono previsti 8 posti letto. La precedente ne assegnava 6. Attivati sono 5, per cui nel breve periodo occorre attivarne un altro attraverso l'acquisto di un ventilatore polmonare per un costo di 40.000 euro. A questi si potrebbero aggiungere altri due, mediante adeguamenti strutturali impiantistici e di acquisto degli arreti e delle attrezzature, ventilatori polmonari, pensili di anestesia, monitor multiparametrici, letti. I costi stimati per l'attivazione di questi ulteriori posti letto ammontano a 450.000 euro che comprendono i lavori. Sempre per l'ospedale di Maria sono previsti altri interventi urgenti e indifferibili per l'adeguamento dell'impianto di trattamento aria e per l'attivazione del locale isolamento per un costo di 60.000 euro. Occorre anche riattivare un ascensore e realizzare la manutenzione straordinaria a quelle esistenti. Complessivamente la richiesta alla regione per l'ospedale di Avola è di 700.000 euro. Altro capitolo riguarda il presidio ospedaliero di Lentini, dove in rianimazione vi sono inseriti nella rete ospedaliera sei posti letti, di cui cinque già attivati. Per attivare il sesto occorre anche in questo caso l'acquisto di un ventilatore polmonare per un costo a base d'asta di 40.000 euro. Per quanto riguarda gli interventi urgenti da effettuare al nosocomio lentinese, l'ASP individua l'adeguamento dell'impianto di trattamenti di aria per l'attivazione del locale isolamento, per il quale è stata chiesta la somma di 200.000 euro. E dall'elenco degli interventi urgenti è assente l'ospedale Trigona di Noto, eppure è un ospedale che potrebbe giovare alla causa con l'installazione di nuovi posti letto in rianimazione in questo periodo di emergenza. Vediamo. Nella relazione che i dirigenti dell'ASP 8 e Siracusa hanno trasmesso all'assessore Razza per prevedere interventi urgenti in alcuni ospedali della provincia, il grande assente è il Trigona di Noto. Un appunto che è stato segnalato sia dall'ex parlamentare regionale Enzo Vinciullo sia dal deputato autonomista Gennuso. Quest'ultimo nei mesi scorsi aveva avuto un colloquio con l'assessore regionale alla salute per affrontare il caso dell'ospedale Netino, ricevendo l'assicurazione che si fosse attivato un corso di formazione medica. In questo momento di emergenza la riapertura in tutte le sue funzioni di quel presidio ospedaliero è una risposta adeguata alle esigenze della popolazione a sud della provincia, tanto più che alcuni reparti sono pronti per essere trasformati in sala di rianimazione. La situazione di emergenza che si sta vivendo a causa della diffusione del Covid-19 impone la massima attenzione verso le strutture sanitarie del territorio. Il Governo regionale ha chiesto alla protezione civile un finanziamento di 20 milioni di euro per predisporre entro marzo 110 posti letto in più in rianimazione negli ospedali siciliani. Sarebbe il caso, dice Gennuso, di prendere in considerazione l'opportunità, o forse meglio definire l'esigenza, di valorizzare al meglio una struttura ospedaliera come quella di noto in questi ultimi tempi messa da parte per scelte amministrative. Si tratta di una struttura ospedaliera che presenta tutte le caratteristiche per implementare la disponibilità complessiva di posti letto nella provincia in modo da evitare di rimanere spiazzati in caso di ulteriori esigenze in tema di coronavirus, potendo così contare anche su personale sanitario di primissimo livello in modo da rasserenare i tanti cittadini che risiedono nella zona sud della provincia siracusana. Il Parlamento regionale autonomista spinge anche sulla possibilità che all'ospedale di noto si attivino reparti sperimentali, dando in gestione alcuni reparti del nostro comio alla sanità privata in grado di installare e attivare nuove branche specialistiche in un ospedale che fino ad oggi non è utilizzato in tutta la sua potenzialità. L'Avis di Siracusa comunica che è temporanea la chiusura del centro trasfusionale, quello che si trova in ospedale all'Umberto I, quindi al centro dell'Asp 8. Tutto sarà concentrato nella sede di via Augusto Von Platen. Ne vediamo. Da domani, giovedì 12 marzo, temporaneamente l'Avis comunale di Siracusa chiuderà il punto di raccolta sangue del centro trasfusionale dell'Asp 8 dell'ospedale Umberto I e tutta l'attività di raccolta sangue ed emocomponenti si svolgerà presso la sede dell'Avis comunale di Siracusa di via Von Platen 40 nei pressi della caserma dei Vigili del Fuoco. Il tutto quindi prosegue ma sarà concentrato in via Von Platen, l'edificio di nuova costruzione con ampi spazi e una sala di attesa che assicura ai donatori la privacy prevista nella fase di compilazione del questionario, dotata di una sala specifica per il medico e infine la sala donazione realizzata seguendo gli standard più elevati previsti per l'accreditamento. La sede ha infine un'area ristoro dove il donatore rimane nel quarto d'ora successivo alla donazione per restare sotto controllo medico nei momenti successivi al prelievo. L'Avis comunale di Siracusa continua a sottolineare l'importanza soprattutto in questi giorni di emergenza di continuare a donare il sangue se si è in buona salute. Ricorda inoltre che non si applica l'obbligo di permanenza domiciliare per tutti i donatori di sangue che si recheranno presso la sede dell'Avis comunale di Siracusa o che stanno rientrando a casa dopo aver fatto la donazione e che ad ogni donazione verrà consegnato loro l'atto di dichiarazione formale dove verrà indicato il motivo dello spostamento dal proprio domicilio che varrà come giustificazione. In questi giorni di emergenza invita tutti i suoi donatori a ricorrere alla chiamata convocazione programmata e quindi di prenotare la propria donazione anticipatamente al fine di regolare e scaglionare il numero di accessi al numero 0931 46 20 19. Ci fermiamo per la pubblicità ma vi aspettiamo ancora dopo per la seconda parte del nostro telegiornale. Ben trovati alla seconda parte del nostro telegiornale andiamo a parlare della sospensione di un'attività commerciale. Infatti gli agenti della divisione di polizia amministrativa e sociale delle volanti hanno eseguito il decreto di sospensione di un'attività relativa all'esercizio di commercio di vicinato alimentari che si trova nella zona bassa della città. Sospensione per un periodo di 20 giorni emesso dal questore di Siracusa. Nell'esercizio commerciale in questione come si evince da numerosi interventi della polizia si sono perpetrati dei reati. Alcune ris spesso all'interno dei locali sono stati trovati soggetti noti alle forze di polizia perché dediti ad attività illegali e persone di origine extracomunitaria intente a consumare alcolici fuori dagli orari consentiti. Invece a noto gli agenti del commissariato sono intervenuti nei pressi della strada statale 115 in corrispondenza del bivio con la strada provinciale 51 per bloccare un 23enne che ha inscenato la famigerata truffa dello specchietto ai danni di un altro automobilista. Dopo aver riconosciuto i fatti i poliziotti hanno denunciato il giovane per il reato di tentata truffa. Le nostre industrie non si possono fermare, questo l'appello lanciato dagli industriali siracusani che spiegano in una nota che maestranze e le imprese dell'indotto che assicurano la corretta conduzione e manutenzione degli impianti rappresentano il cuore pulsante dell'economia e lavorano applicando in pieno con scrupolo e senso di responsabilità le disposizioni del Ministero della Salute e del Governo che allo stato attuale rappresentano una soluzione equilibrata. La priorità da affrontare è certamente quella di carattere sanitario e bisogna aspettare il varo delle urgenti misure a sostegno della liquidità delle imprese a partire dal potenziamento delle garanzie pubbliche, dalla sospensione dei pagamenti fiscali e contributivi al potenziamento degli ammortizzatori sociali per sostenere l'occupazione. Torna ad incatenarsi Sebastiano Garofalo, il dipendente dell'ex provincia regionale che dopo aver incassato il provvedimento della Corte d'Appello attende il risarcimento dei danni e vediamo nel servizio appunto la seconda protesta di questa mattina. Sentenza acquisita nel senso favorevole alle sue richieste? Inibizione ricettata, inibizione ricettata. Però cosa è cambiato? La scusa non ne hanno più, solo che lui sta cominciando a mettere in discussione il fatto che questi debiti li deve pagare l'OSA. Io la sentenza ce l'ho da parte del libero consorzio. L'OSA non può fare differenzazione fra i mesi che sono stati pagati l'altro ieri per il dipendente e la mia differenza paga, è la stessa cosa. Quindi non ci sono scusate, anzi mi sembra strano che il prefetto di Siracusa non sia ancora intervenuto a far applicare una sentenza, quindi è una mancanza di applicazione di legalità che sta succedendo nei miei confronti. Il risarcimento che le tocca, così come anche da sentenza, per quanto riguarda il commissario sostiene che in realtà non deve darlo al libero consorzio ma appunto l'OSA perché lei non sarebbe più un dipendente della provincia, è così? Il commissario è stato informato male, così come quando giovedì scorso gli abbiamo detto con il mio avvocato che questa inibizione fatta dal libero consorzio era inutile, è solo perdita di tempo, è stato dimostrato dalla Corte d'Appello. Io non sono un licenziato. La mia situazione è un contenzioso aperto, così come lo era quella causa che mi vedeva imputato, per la quale sono stato assolto e rienzo tutto in questo contenzioso che ancora manca un'ultima udienza. Quindi questa informazione che ha il percola, il commissario, è non solo esata, è in malafete. Io sono un dipendente della provincia fino al licenziamento che ancora non è venuto, ma lo doveva stabilire un giudice del lavoro che si chiama giudice Pettero e che ha fissato la data dell'udienza è il 9 di giugno del 2020. Io ho chiesto l'anticipazione, che ancora non abbiamo avuto accordato, ma non posso dire quando sarà. L'udienza sappiamo che è il 9, ma può essere anche il 9 di aprile se il giudice ha deciso di anticipare, invecchi di queste problematiche di salute che possiedo io. Quando avremo quel licenziamento? C'è un altro passaggio che la legge prevede, l'appello a Catania. Quindi io ancora sono dipendente della provincia. Chiusura strada provinciale 19. Il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Stefano Zito ha presentato una mozione che è per garantire la viabilità di emergenza. Intanto questa mattina sopra il luogo nella strada appunto in questione da parte del governatore regionale Musume. Ci vediamo. Tenere riflettori accesi sui lavori di realizzazione del tratto di collegamento fra lo svincolo autostradale e la strada provinciale 19 Noto-Pachino. Questo è il senso dell'iniziativa assunta da alcuni parlamentari regionali del Movimento 5 Stelle. Tra i firmatari della mozione il deputato regionale siracusano Stefano Zito che spiega il senso dell'iniziativa. Il governo regionale deve adottare, dice Zito, misure necessarie per il tratto della strada provinciale Noto-Pachino, chiuso da qualche settimana. La chiusura di questo importante asse viario ha suscitato polemiche e lamentele proprio per i disagi che sta causando e per ovviare a qualsiasi problema che comporti penalizzazioni alle popolazioni interessate. I parlamentari regionali del Movimento 5 Stelle hanno invitato il governo musumeci e in particolare l'assessorato alle infrastrutture e mobilità, l'assessorato alla salute, non solo a vigilare affinché si rispettano le scadenze indicate ma anche a garantire il passaggio in sicurezza dei mezzi di emergenza e di urgenza degli appartenenti alle forze dell'ordine e di trasporto disabili predisponendo una illuminazione idonea. Abbiamo anche chiesto, dice Zito, che siano potenziati sia all'ospedale di Noto sia alle strutture sanitarie di emergenza e urgenza proprio per fare fronte ai disagi dovuti al ridotto collegamento causato dai lavori su quel tratto. Intanto questa mattina il sindaco Corrado Bonfanti ha partecipato al sopralluogo nel cantiere sulla strada provinciale 19 Noto-Pachino insieme con l'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone. L'esponente del governo Musumeci ha voluto sincerarsi dal vivo sullo stato di avanzamento dei lavori per il raccordo della strada provinciale con la bretella che collega lo svincolo autostradale di Noto. E' emerso, spiega il sindaco Corrado Bonfanti, che i lavori stanno proseguendo come da cronoprogramma e che l'apertura di una corsia dell'importante arteria viaria per la zona sud della nostra provincia avverrà entro Pasqua. Così come già detto al termine del sopralluogo di due settimane fa. Inoltre è stata installata l'illuminazione notturna del cantiere con presenza di guardiani a cantiere chiuso ed è assicurato in sicurezza il passaggio dei mezzi sanitari e delle forze dell'ordine. Scattano le sanzioni per una quarantina di detenuti che si è resa protagonista lunedì della sommossa all'interno della casa circondariale di Cavadonna. Vediamo. Una quarantina di detenuti è stata identificata come responsabile della rivolta all'interno della casa circondariale di Contrada Cavadonna mentre si fa la conta dei danni nella struttura. E' questa una delle ripercussioni legate alla manifestazione di protesta inscenata lunedì sera all'istituto di pena siracusano. In tutto una settantina di detenuti ha inscenato una manifestazione di protesta salendo sui tetti del penitenziario, bruciando lenzuolo e materassimo una forma di protesta avvenuta sulla scia di quanto registrato nella giornata in altre carceri italiane con conseguenze ben più gravi. L'allarme è scattato intorno alla 22 e in brevissimo tempo il penitenziario siracusano è stato presidiato alle forze dell'ordine intervenute in massa per prevenire episodi più violenti come avvenuti in altre carceri dell'Italia. Il garante diritto delle persone private e la libertà del comune capoluogo Giovanni Villari si è regato nuovamente ieri mattina a distanza di poche ore dai fatti alla casa circondariale di Cavadonna per prendere visione delle conseguenze delle proteste avvenute lunedì sera. I danni sono seri, riferisce Villari, e per la direzione del carcere non sarà facile porvi rimedio considerando anche la fase che stiamo attraversando. Alla carcere, su richiesta del direttore Aldo Tiralongo, è arrivato il magistrato di sorveglianza di competenze per ascoltare le richieste di una ristretta delegazione ai detenuti coinvolti. La protesta riferisce il garante a interessati reclusi nel blocco 50 dove si stanno contando i danni. Devo però segnalare, aggiunge, che non tutte le persone ospitate in quella sezione vi abbiano preso parte. Al pian terreno la cucina è inutilizzabile, sono stati distrutti televisori, circuiti di sorveglianza e altre attrezzature. Anche le celle risultano gravemente danneggiate. Il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ha sospeso le traduzioni per lo sfollamento, ragione per cui i detenuti, le cosezioni che non sono momentaneamente agibili, dovranno essere distribuiti sempre all'interno del penitenziario di Cavadonna. Questo aggreverà ulteriormente il sovraffollamento della struttura che soffre ormai in maniera endemica da diversi anni. Sulla sommossa l'istituto di pena di Cavadonna dice la sua e il parlamentare del Movimento 5 Stelle Paolo Ficara. È stata una notte difficile quella vissuta nella casa circondariale di Cavadonna. Proprio nella giornata di lunedì sono stato in contatto con il direttore della struttura e il prefetto. Sono fortemente convinto, ma non sono il solo, che ci sia una regia dietro queste sommosse nelle carceri italiane. domani 12 marzo è la giornata mondiale della salute del Rene. Ogni anno si sono sempre svolte delle iniziative con informazioni di prevenzione e screening, ma l'emergenza coronavirus obbliga ad annullare qualsiasi tipo di iniziativa programmata. Sentiamo. Domani 12 marzo è la giornata mondiale del Rene. Ogni anno sono state organizzate iniziative per informare sulle varie malattie renali, la prevenzione e come mantenere la salute dei reni. Ma l'emergenza coronavirus obbliga quest'anno ad annullare qualsiasi forma di manifestazione organizzata per divulgare le informazioni sulla salute dei reni. Il polo diagnostico nefrologico di Siracusa, noto e Pachino Nefral e Sirnefros, in passato sempre attenti alla giornata mondiale dedicata al Rene con iniziative informative e screening, quest'anno comunicano il rinvio della giornata a data da destinarsi. Tutto il materiale per la giornata mondiale del Rene era stato approntato, la pagina online per l'inserimento dei dati era attiva e la conferenza stampa organizzata. In buona sostanza era tutto pronto per la partenza, ma il Covid-19 impone invece una battuta del resto. A seguito dell'attuale situazione sanitaria, considerate le limitazioni imposte per non distrarre forze lavorative dagli ospedali e tutelare la salute collettiva, si ritiene opportuno con rammarico rinviare a data da destinarsi le iniziative previste per la giornata mondiale del Rene 2020 che doveva svolgersi domani 12 marzo. Provvederemo a fornire le informazioni con congruo anticipo per permettere a tutti un'adeguata dell'organizzazione. Questo servizio chiude l'edizione del nostro telegiornale, vi lasciamo alle previsioni meteorologiche. Grazie per averci ascoltato, arrivederci. Ben trovati da Nikos di Trevi Meteo. La situazione per quanto riguarda la nuvolosità a scala europea ci fa vedere giovedì ancora un campo di alta pressione con bel tempo quasi ovunque. Inizia solo aumentare un po' la nuvolosità sulla Liguria e poi man mano della variabilità verso la serata in arrivo anche per il nord ovest e l'alto tirreno dovuto all'avvicinamento di una perturbazione da ovest però insomma ancora giovedì una giornata relativamente tranquilla. Prossima grafica delle precipitazioni ci fa vedere appunto il bel tempo ovunque con assenza di piogge solo delle piovigili in arrivo per il Levante Ligure specie verso fine giornata. Si avvicina di fatti questo fronte nuvoloso dalla Spagna e dalla Francia che richiamerà delle correnti più umide di Libeccio sul mar Ligure. Questo spiegato quindi la nuvolosità sulla Liguria. La prossima grafica ci mostra di fatti della variabilità in arrivo al nord ovest soprattutto su Levante Ligure con le piovigini come dicevo verso la serata. Altrove una bella giornata sul nord est al centro sud il sole e ancora proprio sulla parte tirrenica Isole Maggiori potremo localmente superare i 20 gradi. Dettagli però precisi sulle vostre località scaricando l'app di Trebimeteo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.